Questa mattina il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti ha nominato assessore Ines Flavia Rubino, conferendole le deleghe a finanze, bilancio, tributi, patrimonio, farmacie comunali, istruzione, formazione e saperi per l'innovazione. Flavia Rubino, nata a Gorizia il 22 febbraio del 1950, è laureata in giurisprudenza e in psicologia, consulente e docente di progettazione europea, già responsabile delle politiche giovanili e di politiche europee presso la provincia di Pordenone, annovera consolidate esperienze nell'ambito del sostegno alle famiglie e della consulenza psicologica, oltre a solide competenze in ambito amministrativo. L'assessore Rubino subentra alla dimissionaria Chiara Mio, che recentemente ha rimesso l'incarico nelle mani del sindaco per motivi personali legati a impegni professionali. Allora io adesso mi prendo un po' di tempo per capire bene che cosa è reddito, sicuramente porterà avanti i progetti positivi e sicuramente se ci sono invece delle cose da cambiare le verificherò assieme al mio partito e assieme agli altri componenti della Giunta. La firma sull'atto di nomina e l'accettazione da parte del neoassessore giungono a conclusione di una fase di approfonditi scambi in merito ai delicatissimi temi implicati tanto dalla delega all'istruzione quanto da quella al bilancio e finanze comunali, per la quale va perseguito il delicato obiettivo di bilanciare la qualità e quantità dei servizi, la pressione fiscale e l'equilibrio economico dell'ente.